Ma non ti eri mai fatto vedere prima? Da piccolo Se non si trova entro la fine dell'estate siamo due sfigati No, aspetta Non ti fidi? No, è che ci siamo appena conosciuti Ah Forse perché all'inizio uno dà più importanza ad altre cose Tipo il sesso? Beh, anche sì Certo No? Sì, sì Lei almeno ha prende due polpi Per far cosa? Trombasse Che cazzo dici? La calosa più simile alla topa che esiste Solo te perché in Inghilterra si dice 8 bussi? Che c'è? Ha fatto il mio polpo? Ma l'avevi comprato te? Ma perché dovevi chiamare una puttana? Per tutto, ti dà una mano Dolori, eaculazioni precoci, blocchi mentali Hai già visto? Sì, alcuni ce l'hanno Però volendo posso anche farmi fare una sega e basta, no? Ma sei scemo C'è una sega 150 la faccio io Vorrei mettere la testa fuori dal finestrino Però c'è sempre paura di una galleria, di un palo E quindi non lo fai? Eh no Però io lo voglio fare